Ciao a tutti, sono Marco della Biblioteca di Concesio. Oggi però giriamo il video da casa, per ovvie ragioni. Visto che oggi è il primo giorno di primavera, vi propongo un bel gioco immerso nella natura. Si intitola Il Viaggio dell'Orsa. È un gioco di carte ed è adatto a tutta la famiglia, anche per bambini più piccoli. Io lo consiglio a partire dai 5 anni, ma sicuramente si divertiranno anche gli adulti, i genitori. È un gioco che si può stampare in casa, print and play, e qui sotto trovate tutti i link per stampare le carte, che si possono stampare sia in bianco e nero che a colori, e anche il regolamento. Se avete pazienza e non avete voglia di leggervi il regolamento, continuate a guardare questo video così vi spiego come si gioca. Il Viaggio dell'Orsa è un gioco da 2 a 4 giocatori, della durata di un quarto d'ora a 20 minuti, dall'età di 5 anni. Allora queste sono le carte paesaggio, sono 45 carte paesaggio, e poi avremo le carte punteggio che guardiamo dopo. Come si fa? Si mescola al mazzo e poi si girano le prime quattro carte. Ogni giocatore a turno dovrà scegliere una tra le quattro carte a disposizione e metterle nella propria mano. Poi si scoprirà una nuova carta, toccherà ad un altro giocatore, finché toccherà a me di nuovo. Dovrò prendere un'altra carta e posizionarla alla destra dell'ultima carta giocata, seguendo il pendio della montagna, avvicinandola. E così finché non avrò messo, composto, il mio bosco formato da dieci carte. Quando avremo messo l'ultima carta, la decima carta, allora il gioco sarà concluso. Ecco, si segue proprio il pendio. Ma come si fanno ad ottenere i punti? Innanzitutto andiamo a vedere com'è costruita la carta. Vedete, abbiamo l'habitat, quindi gli alberi, latifoglie o conifere, oppure avremo anche il prato e poi possiamo avere degli animali che popolano il nostro bosco. Qua abbiamo una leggenda che ci ricorda quello che abbiamo sulla carta. In più abbiamo anche una valle, nel caso si scenda, oppure una montagna, nel caso invece si salga. Possiamo avere anche doppia valle o doppia montagna. Ma come si fanno ad ottenere i punti? Si otterranno con le maggioranze, quindi se nel vostro disegno avrete la maggioranza di animali, di piante o di montagne o di valli, guadagnerete un punto per ogni obiettivo raggiunto. Allora, nel caso si giochi in due giocatori, si devono scoprire nove carte punteggio. Ce ne sono in tutto 18. Se si gioca in tre o quattro giocatori invece 11 carte. Quindi noi ne scopriamo, facciamo finta di giocare in due, ne scopriamo nove. Vediamo come si fanno i punti. Chi avrà più prati? Chi avrà più montagne? Poi vediamo. Chi avrà più piante latifoglie? Chi avrà fatto più conigli? Chi avrà più scoiattoli? Chi ha più cervi? Chi ha più picchi? Chi ha più volpi? Chi avrà più grandi mammiferi? Che si otterranno sommando gli orsi con i cervi? Allora, dopo la decima carta andremo a vedere ad esempio chi avrà collezionato più conigli. Io in questo caso, adesso ho solo tre carte ma dovrei averne giocate dieci, in questo momento ho due conigli. Se sono il giocatore con più conigli guadagno questa carta che mi vale un punto. Ogni carta punteggio vale un punto. Se abbiamo un pareggio va un punto a testa. Ci sono poi gli habitat e le altitudini che sono un po' più difficili da calcolare perché in questo caso latifoglie non si contano tutte le piante latifoglie che abbiamo nel nostro disegno ma solo quelle contigue, quelle attigue. Quindi in questo caso ne ho solo una. Se avessi preso anche questa carta dovrei calcolare di avere uno, due, tre latifoglie. In questo caso avrei comunque come punteggio massimo tre latifoglie. Uno, due e tre perché l'altra, la quarta, è staccata, non è vicina. Quindi il boschetto di latifoglie è questo qui. Stessa cosa vale per i monti o le valli. Le montagne sono le salite che abbiamo, le valli le discese. Anche qui devono essere continue. Partiamo sempre dalla sinistra a contarle. In questo caso ho uno, due montagne, ho la pianura, ho due discese. Quindi ho due, meno due, zero. E poi ho due montagne ancora. Quindi io in totale ho due montagne. Anche in questo caso chi avrà più montagne guadagnerà un punto. E questa era l'ultima regola. Buon divertimento!